ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video finalmente sono tornata con la resina anche se fa ancora caldo ma non ne potevo più di aspettare avevo bisogno di creare delle basi per il virtual comics che sarà a tema halloween se non sapete cos'è seguitemi su instagram perché lì ho spiegato tutto nel dettaglio e sto preparando un pochino di serpentelli questo stampo di aliexpress e con questi pigmenti di sparkly treasure shop che sono bellissimi sono tipo molto cangianti e hanno un sacco di riflessi di colori diversi secondo me molto belli anche come colori autunnali e si prestano molto bene con i serpentelli quindi vedremo poi l'effetto finale come sarà ma già si prevedono meraviglie secondo me mi sono aiutata con questo pennellino minuscolo perché con quelli grandi non mi veniva bene devo essere sincera il pigmento è molto volatile quindi si attaccava dappertutto tranne dove doveva quindi con questo qua di precisione mi è venuto molto meglio anche questo qua molto chiaro è bellissimo hanno tutti effetti diversi colori diversi questo quasi presta anche per la resina trasparente non solo la resina nera come magari quelli colorati che danno il meglio di sé con la resina nera come sfondo faccio anche dei cristallini che mi serviranno per decorare delle basi per creare una sculturina che poi vedrete e mi aiuto un pochino anche qua con il pennellino piccolo e li faccio con questi due colori quelli chiari li colerò con la resina trasparente mentre quelli scuri con quella nera voglio provare a vedere un pochino l'effetto come verrà così vediamo anche con la resina trasparente il pigmento quello chiaro come viene se viene un effetto tipo cristallo aura sarebbe fantastico adesso preparo la mia fil cristal la mia resina preferita di res chimica ne preparo un bel po ne preparo un bel po perché ho anche un sacco di stampi non so se avete visto tutti i miei stampi nuovi di petite 3d vi lascio il link qua nell'info box ma sono tutti stupendi e secondo me gridano halloween da tutte le parti c'è un teschietto una base delle cornicette una base a bara che conterrà una creazione molto speciale quindi adesso preparo un bel po di resina nera perché le cornicette e i serpentelli li farò con la resina nera e inizio a colarla piano piano con il bastoncino io uso sempre questa tecnica cioè metto poche gocce poi col bulino sparpaglio la resina questo mi aiuta a non fare tante bolle perché in effetti questi tipi di stampi qua molto sottili purtroppo causano sempre tante bolle perché la resina soprattutto se c'è un po di caldo come da me tende a fare delle bollicine a catalizzare presto anzi questo tipo di resina non ne fa molte devo essere sincera però purtroppo già con il caldo io sento che sta iniziando a catalizzare quindi devo muovermi di conseguenza mi aiuto un pochino per evitare che si creino delle bollicine che quindi le creazioni riescano meglio io lo consiglio sempre a tutti di farlo si perde un pochino di tempo in più questo è vero però riusciamo a creare delle creazioni con meno difetti e quindi creare meno sprechi perché purtroppo poi quando crescono le bollicine riescono le bollicine negli stampi purtroppo è un peccato poi non poter utilizzare le creazioni invece con questo metodo devo dire che mi trovo particolarmente bene speriamo che vengano bene nel prossimo video facciamolo scopriamo quindi tenetevi pronti a vedere tutti questi effetti tutti questi pigmenti e queste forme stupende già prevedo meraviglie speriamo vengano bene purtroppo fa veramente tanto caldo e anche se siamo ormai in autunno da me c'è un clima praticamente estivo oggi ci sono 36 gradi quindi di conseguenza non avrei dovuto colare con la resina però non posso più aspettare quindi mi sto avventurando così un pochino speriamo riescano bene do sempre una bella sistemata con il mio amico bulino uso uno super sottile così da poter entrare anche negli spazi più sottili degli stampi finisco di colare i miei serpentelli uso sempre questa tecnica di mettere la resina goccia per goccia in questo caso così evito anche il fatto che possa strabordare perché purtroppo da questi stampi molto sottile è facilissimo buttar giù troppa resina e se esce tutta di fuori un momento che catalizza sarà difficilissimo poi da rifinire la creazione non verrà mai benissimo secondo me anche per quanto possiamo essere bravi a rifinire le creazioni soprattutto se hanno tutti questi dettagli tutte queste curve viene sempre male quindi io preferisco far così perdere un pochino di tempo in più nella fase di colata piuttosto che dopo avere i problemi diciamo per rifinire per bene tutte le creazioni perché ha delle parti sottilissime questo stampo adesso inizio a colare i miei cristallini quello dove ho messo il pigmento viola iridescente cangiante li faccio col nero gli altri li ho messo la resina trasparente anche in questo caso mi aiuto sempre con il bulino perché cristallini purtroppo nelle punte tendono sempre a fare un po di bollicine quindi la resina fa fatica ad andare fino alle punti quindi mi aiuto con il bulino in modo tale da evitare che si creino appunto quelle fastidiose bollicine che rovinino i nostri cristallini speriamo vengano bene anche perché già la resina inizia a essere bella calda quindi vuol dire che sta catalizzando inizia essere anche più densa devo muovermi una volta finiti i miei cristallini che metteremo di lato a catalizzare tranquilli tranquilli farò le mie cornicette la mia base bara in queste cornicette voglio creare un nuovo tipo di creazione che non ho fatto mai c'è delle creaturine vere e proprie su base speriamo vengano bene perché queste cornici mi piacciono veramente tanto mi ispirano tanto halloween perché sono così gotiche ricche di dettagli sono veramente stupende appena le ho viste sin dalla prima volta mi sono innamorata e ho detto dovranno essere mie quindi ho deciso di comprarle soprattutto in questo periodo secondo me si prestano tantissimo per le creazioni a tema halloween anche nelle cornicette ho creato un pochino di di resina soltanto all'inizio ne ho messa poca così la resina va in tutte le parti più sottili nella bar ho fatto un po' un pastrocchio però alla fine tutto risolvibile perché tanto è uno stampo largo quindi facilmente riparabile poi ho creato un pochino di resina viola col colorante sempre di reschimica questo qua è fantastico perché fa il viola viola non come tanti coloranti viola che poi col tempo mentre catalizza la resina diventano marroncini fanno un effetto bruttissimo questo è proprio viola viola trasparente e ci voglio fare il teschietto verrà un teschietto cristalloso quindi lo collo nel teschietto e lo giro per non far venire le bolle questa è tutta la colata e nel prossimo video vedremo un pochino come saranno venute queste creazioni vi invito a seguirmi se non lo fate già e nell'info box troverete tutti i link utili per seguirmi del mio negozio e degli shop dove avete visto i pigmenti e gli stampi ci vediamo al prossimo video ciao